Il ristorante Casa Rustin Piazza Salotta Pescara dopo circa 4 anni di attività chiude e battenti. Domenica scorsa, come riportato sulle colonne del quotidiano in centro, i titolari Stefano e Cristian Fedele hanno chiuso definitivamente il loro carri di Arrossicini che portava avanti il brand abruzzese firmato Ilka Carni. I due imprenditori sono pronti a riaprire fuori regione. Siamo incappati in una burocrazia che è troppo difficile da superare, ma non solo per noi, un po' per tutte quante le attività commerciali che sono a pescare, quindi dubito o sfido chiunque a fare un ristorante, seppur in modo molto easy, a farlo con sette posti a sedere. Troppi vincoli burocratici legati all'installazione di The Hors, ha sottolineato Stefano Fedele, ci hanno fatto prendere questa decisione. Con il gruppo Ilka Carni, ha sottolineato ancora l'imprenditore, diamo lavoro ad oltre 100 dipendenti e per noi l'apertura di questo locale rappresentava un'opportunità per la città di Pescara. Il nostro format lo sposteremo, lo porteremo fuori regione, in modo tale da portare avanti l'idea che abbiamo, appunto perché crediamo molto nel nostro progetto. Sul locale, come si potrà ricordare, un anno e mezzo fa si sono accesi i riflettori per via della vicenda di Gelfri, il cuoco dominicano all'epoca 23enne, raggiunto da cinque colpi di pistola, sparati la mattina della Domenica delle Palme dal cliente Federico Pecorale. Noi siamo lì vicino a lui ancora oggi, ogni giorno, sperando appunto che possa recuperare il più presto possibile e le porte di questa azienda sono aperte a lui, la famiglia Fedele è molto vicina a lui. Non voglio fare polemiche, ma forse al contrario di tanti altri che avrebbero dovuto sposare la causa, Gelfri, e io questo lo tengo a sottolineare. Non chiudiamo per questo motivo, chiudiamo perché i problemi sono ben altri. Il locale chiude a causa dei lacci burocratici che hanno ristretto gli spazi del Deors, solo sette metri all'esterno, impossibile resistere, ha aggiunto ancora Stefano Fedele. Interpellato telefonicamente, l'assessore comunale Alfredo Cremonese, nell'esprimere massima vicinanza ai fratelli Stefano e Cristian Fedele, che conosce personalmente da anni, li ha ringraziati per quanto fatto ed ha sottolineato che l'autorizzazione del Deors non compete alla politica in quanto esistono dei regolamenti tecnici che fanno riferimento a leggi nazionali sul rispetto delle norme igienico-sanitarie. Per arginare vincoli burocratici, così come è stato fatto in altre vie del centro cittadino, si dovrebbe ricorrere a strutture movibili da rimuovere la sera dopo l'orario di chiusura.